La mancanza o comunque la povertà di comunione costituisce lo scandalo più grande, l'eresia che deturpa il volto del Signore e dilania la sua Chiesa. Nulla giustifica la divisione. Il Papa si è rivolto in questo modo alla 66esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani riuniti in Vaticano. In apertura il saluto del Presidente della CEI, il Cardinale Angelo Bagnasco, che ha ricordato i tanti suggerimenti arrivati dalle conferenze episcopali locali sulle modifiche allo statuto della conferenza stessa. Il Papa ha detto che come pastori dobbiamo rifugire da tentazioni che diversamente ci sfigurano, come la gestione personalistica del tempo, quasi potesse esserci un benessere, a prescindere da quello delle nostre comunità. E dobbiamo anche rifugire dalle chiacchiere, le mezze verità che diventano bugie, la litania delle lamentele che tradiscono intime delusioni.